I miei stanno insieme da una vita, non hanno mai avuto altre relazioni e la loro storia non ha mai conosciuto momenti di pause. Io invece ho avuto diverse relazioni, ci si trova, ci si perde, si sta da soli per anni, si matura e si va avanti. So che non c'è un modello giusto e uno sbagliato, ma il modello della mia famiglia e con cui sono cresciuto mi sta mettendo parecchio stress. Leonardo. Ciao Leonardo, trovo molto bello che tu abbia avuto nella tua vita un esempio di relazione che trovi positivo, però dobbiamo stare anche molto attenti a fare paragoni con generazioni precedenti, perché la cultura in cui siamo immersi è molto cambiata, andando ad indebolire, come vedremo, anche la stabilità, la durata delle relazioni. Facciamo un veloce scursus, sai, andando indietro nei secoli i matrimoni erano combinati e quelli duravano molto, del resto mancava proprio la componente dell'amore romantico, del romanticismo, a cui in realtà si è iniziato a dar valore relativamente recentemente, adesso la troviamo fondante delle relazioni, è uno degli aspetti più belli, ma è anche uno dei più se non il più volatile, fragile, che se non a fronte di un quotidiano impegno tende a morire, quindi rendendo le relazioni più delicate. Andando poi avanti nel tempo, guardiamo al secolo scorso, dove comunque per la maggior parte di quel secolo, fino agli inizi degli anni 70, non esisteva il divorzio, e anche quando è stato legalizzato, ricorrervi poteva costituire uno stigma sociale, sostanzialmente. Quando questo stigma è andato affievolendosi, comunque siamo nel pieno della rivoluzione sessuale che ancora doveva dare i suoi frutti a techire, è rimasto un forte giudizio sociale nei confronti di una donna che ha tanti partner, una poco di buono, e ancora sappiamo che esiste in realtà. È una considerazione molto cinica, però sembra esserci una correlazione tra il numero di partner avuti e la stabilità, la durata del proprio matrimonio. Sostanzialmente, se non siano termini di paragone, è difficile rendersi conto di ciò che si ha in mano, in tutti i sensi. Ma anche superato questo aspetto, e qui arriviamo alla generazione precedente, alla mia, ci si sposava molto giovani, e fare questo investimento così presto può generare un problema di valutazione che è legato appunto agli investimenti irrecuperabili, è quello che si chiama effetto concord. Questa distorsione nella percezione della realtà si verifica quando facciamo un investimento, un grosso investimento irrecuperabile, in qualsiasi ambito, che sia di denaro, che sia di tempo, dove istintivamente siamo portati a dire, vabbè, ormai ci ho speso tanto che non posso tirarmi indietro, continuerò ad investire, quando invece una lucida e razionale analisi della situazione ci direbbe che le probabilità che questo investimento inizia a rendere sono zero o prossime allo zero. L'effetto prende il nome dal Concorde, l'aereo supersonico sviluppato da Inghilterra e Francia, dove i governi continuarono ad investire nel progetto anche quando era chiaro che sarebbero andati in perdita con la motivazione che ormai avevano investito tanto nel progetto. E come si applica questo alle relazioni? Fra l'altro lo leggevo proprio ieri nel libro di Francesca Vecchioni, Pregiudizi inconsapevoli. Le relazioni sono un grosso investimento di tempo. In particolare non è raro sentire espressioni che trovo sempre piuttosto amara, ho investito i miei migliori anni, riferito insomma alla giovinezza. Ci si ritrova a dire ho fatto questo investimento irrecuperabile, non me lo dà più nessuno, che senso ha ora che lasci perdere? Il senso è che si smette di perdere altro tempo rispetto magari ai decenni investiti in un rapporto che non funzionava. Poi non dico che questo sia il caso dei tuoi genitori, però confido di averti dato una serie di elementi per capire perché non abbia senso valutare la stabilità delle relazioni odierne confrontandola con quelle del passato. Un conservatore probabilmente ci direbbe che in nome dell'autodeterminazione, in nome della libertà sessuale, siamo andati a deteriorare il tessuto stesso della società, a sciogliere quei nodi fondamentali che sono la famiglia, probabilmente nella sua visione strettamente intesa come padre, madre e figli, e in un certo senso posso anche essere d'accordo io sull'esistenza di questo processo che sta portando il tessuto a disfarsi. Semplicemente, secondo me, è una fase propedeutica a costruire un altro tessuto, dalle maglie più morbide, più inclusive, nei confronti di diversi modelli di relazione, di famiglia, e dove le scelte che si fanno si fanno in relazione all'espressione di se stessi, a ciò che riteniamo essere sul percorso verso la versione migliore di noi e non frutto di convenzioni sociali. Venendo a te Leonardo, che soffri perché vedi che le tue relazioni non sono all'altezza di quel modello così alto che invece ti hanno mostrato i tuoi genitori, mi vengono due consigli. Il primo è di ricordare una cosa che a me disse il mio psicologo tanti anni fa, si prova a stare insieme. Anche dopo 30 anni, ogni giorno si prova a stare insieme. All'inizio sono rimasto un po' sgomento da questa visione, dal tipo ma quindi non c'è mai una certezza, non posso mai stare tranquillo? In effetti no, però c'è qualcosa di molto potente in questa visione, perché innanzitutto ti invita a smettere di svalutare le tue relazioni nel momento in cui hanno dei problemi e che sorgono sempre una volta finito l'innamoramento. E la seconda è che questa visione ti esorta ad affrontarli questi problemi, togliendoci dalla testa quest'idea mortifera del fatto che una volta sposati basta, il rapporto va avanti da solo. Il secondo consiglio che ti do è se tu sei alla ricerca di un rapporto continuativo nel tempo in cui ci sia un'enorme dimensione di impegno, io ti dico Leonardo dillo, dillo alle persone che incontri. Molti ti direbbero no, non farlo assolutamente, che si spaventano, io ti dico bene, che si spaventino pure così non perdi tempo con persone che non hanno il coraggio o la voglia di investire in relazioni a lungo termine.